esiste veramente il razzismo latente però c'è anche in america e perché noi non riusciamo perché siamo così incapaci se c'è l'anzito serio e siamo onesti l'italia è un paese che predilige i mediocri non voglio di nuovo di ideologista però è un paese senza meritocrazia che appena alla destra è iniziata a parlare di merito e c'hanno ragione per quelli di sinistra si sono allarmati tutti perché il merito è una cosa il merito è una cosa giusta suoi fascisti che vedono male e quelle di sinistra il merito ci servirebbe in italia servirebbe un po di merito grazia solo che il problema è che i fascisti non la possono fare perché sono fascisti e quelli da sinistra vogliono proprio abolire completamente il merito questo è il problema siamo un paese dei mediocri quindi una cosa facciamo finta di farla perché per fare finta di fare una cosa ci vuole debito che farla inserirebbe